Nelle ultime tre partite il Verona ha raccolto tre sconfitte senza neanche segnare un gol. Il Venezia invece dopo sei KO consecutivi ha ottenuto una vittoria e un pareggio che hanno ridato fiducia e soprattutto migliorato la classifica. Le due squadre arrivano quindi a questo derby Veneto con morale completamente diverso, l'obiettivo però è lo stesso, vincere. Buon pomeriggio da Luca Pellegrini della Giovane Italia e benvenuti all'antistadio Guido Tavellin di Verona per l'undicesima giornata del campionato Under-16. Vedete già in grafica la formazione dei padroni di casa che rispetto alla sconfitta contro il Milan ne cambiano tre. Bertolazzi tra i pali al posto di Castagnini, Ducure sostituisce Grassi in difesa e Peci al posto di Coltro a centrocampo. Rispondono gli ospiti con due volti nuovi, anche in questo caso uno è in porta, vale a dire Carniello. Il secondo è Perissinotto al posto di Sarto a centrocampo. E' iniziato il derby Veneto categoria Under-16. In Under-15 si è imposto il Venezia in rimonta con il risultato di 2-1. Occhio che c'è subito una chance. Gici sulla ribattuta fa 1-0 dopo 15 secondi. Parte Lari in corsa, traiettoria lunga sul secondo palo dove Senciuk riesce ad infilarla in porta. Raddoppio del Venezia. Rincorre il pallone Perissinotto ma ci arriva prima Minuccelli. Largo a sinistra De Rossi, il pallone per lui. Cross sul secondo dove arriva Avdullari che rimette in partita al Verona. Tre gol in 11 minuti, che derby! Avdullari tra le linee per Minuccelli. Sta arrivando a destra Mussola che viene visto e servito. Scivola, la mette in mezzo! E trova la zampata di Zanfisi che fa 2-2 la ripresa al Verona. Ma partita meravigliosa! E' uno schema per De Rossi che non calcia di prima, calcia ora. Tiro poco convinto, diventa buono per Minuccelli. che si gira ma calcia fuori. Grassi per Stella. Ancora Grassi di prima in mezzo. In realtà è un tiro in porta. Carniello forse ingannato anche dal sole. Grassi con le mani allontana il Venezia. Di nuovo il Verona in possesso. Stella di prima per Coltro. Pressato ora anche raddoppiato. Trova un gran filtrante per Avdullari. L'ha messa sul fondo. Modesto. Ha spazio per girarsi. De esterno in bucata per Senciuk. Infastidito al momento del tiro calcia centrale. Zambiasi. Esce lui dal traffico. In verticale per Stella. Attenzione alla velocità del 19 che va via. Attaccano l'area a Bryce e Opuoru. Palla sul secondo. Dove Opuoru deve solo spingerla dentro. I cambi fanno la differenza. Il Verona ha ribaltato il derby. 3 a 2. Berto Lazzi il più lontano possibile. L'arbitro dice che non c'è più tempo. Il derby under 16 è del Verona che rimonta da 0 a 2 a 3 a 2. e non c'è più tempo. Grazie.